Sicuramente un significato a questa iniziativa, ma soprattutto quella in cui io più credo d'altra parte del mio mestiere, quella che è un'iniziativa culturale, una crescita della cittadinanza che sa cosa deve mangiare e cosa non deve mangiare, cosa deve fare, ciò che fa bene e ciò che fa male, e tre medici. Io mi incontro con Gino Rocco che ha una grande preparazione a alcune cose di cui non capisco assolutamente nulla, efficientevolmente cerco di trasmetterle di lui altri valori, di cose che lui non sa, credo che avremo tutto per veramente da guadagnarci. Certamente verranno gli strumenti legislativi che stavano cercando perché non dobbiamo andare a fare passi nel vuoto, non dobbiamo rischiare assolutamente nulla, è ovvio, non dobbiamo assolutamente dare farsi illusione su quello che faremo, ma alcune cose sono sicuro che insieme le faremo, le faremo concretamente, io sono perfettamente d'accordo, ringrazio te Caspariola e tutti i miei, sicuramente. Grazie. 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 Grazie.